In prossimità di Londra, esattamente a Torpe Lake, si racconta la leggenda di uno spettro. Qui sembra che si aggiri un fantasma di un monaco senza testa e dopo alcune testimonianze i proprietari del parco giochi avrebbero coinvolto alcuni esperti del paranormale per indagare a fondo sulla vicenda. Venne fuori dopo l'indagine che il parco venne costruito su un'antica pazzia di monachi con annesso un cimitero. La pazzia di Kestray risale all'anno 666 d.C., un numero alquanto familiare associato al demonio e in passato sarebbe emerso che alcuni monaci avrebbero infestato l'aria, apparendo all'improvviso misteriosamente dopo la loro morte, probabilmente anche accusati di riti esoterici fatti nel monastero stesso. Ma ovviamente queste sono solo supposizioni. Grazie. 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 Grazie.